Gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno arrestato il 35enne che martedì scorso si è presentato in un bar del centro cittadino e impugnando una pistola ha chiesto dove fosse il titolare perché ha detto in dialetto lo devo sparare. Il 35enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio in sostanza stupefacente e minacce aggravate dall'uso di arma da fuoco. Il 19 ottobre scorso gli agenti di polizia sono intervenuti in un bar dove poco prima il 35enne era entrato. L'uomo impugnando una pistola di colore nero con la mano destra aveva chiesto ad una dipendente e ad un cliente dove si trovasse il proprietario dicendo in dialetto foggiano lo devo sparare. Non trovandolo è uscito e andato via con un'automobile. Nel corso delle indagini gli investigatori sono riusciti a identificare l'uomo e dopo averlo rintracciato hanno trovato nella sua auto una pistola beretta calibro 7,65 con serbatoio completo di sei colpi di cui uno in canna, 25 cartucce dello stesso calibre e 15 grammi di cocaina ripartita in due confezioni. Alla vista gli agenti il 35enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Ancora in corso le indagini della polizia per capire le ragioni che hanno indotto l'uomo a minacciare con una pistola il titolare del bar.